Nuova sfida per la GRM in fissi Club Arezzo in Serie C, dopo le prime due partite di campionato e di nuovo l'ora di giocare tra le Muramiche. Sabato alle 18.30 la partita sarà contro i campioni di Emma Villas, Siena al palazzetto Maccagnolo di Arezzo. Una sfida vincente allo stesso tempo solidale grazie alla partecipazione a bordo campo di Oxfam Italia. La collaborazione tra il club aretino e Oxfam si rafforza e si concretizza arrivando fino in campo. Nella partita di domani il palazzetto comunale Maccagnolo ospiterà anche volontari di Oxfam Italia. Spazio quindi al volontariato e all'impegno solidale con la lotteria di GRM in fissi Club Arezzo per Oxfam Italia. Uno dei nostri obiettivi primari è sempre stato quello di conciliare lo sport con la solidarietà e l'integrazione, ha detto il presidente Mattioli. La sensibilizzazione a certi temi e valori possono e devono partire anche dallo sport. Il club Arezzo non si è mai tirato indietro, anzi fin da subito ha voluto ribadire quanto è importante impegnarsi al fianco di chi concretamente si spende per affrontare le emergenze del nostro tempo. Siamo felici, prosegue Mattioli, di poter ospitare Oxfam Italia al Maccagnolo. Eventi come questi saranno poi ripetuti nel corso della stagione dal club aretino.